Ciao ancora da Lucca Comics 2023. Allora, siamo in compagnia di Hank stavolta. Hank, che cosa fai nella vita? Sicurezza, diciamo, a reconsiede. Allora, dici un po' che cosa combatti. Beh, combattiamo molti virus, il virus che si sta diffondendo a reconsiede per, diciamo, un nostro piccolo sbaglio. Quindi nel lavoro si possono diffondere anche dei virus, bisogna fare prevenzione anche riguardo alla diffusione delle malattie professionali. Allora, dimmi un po' che cos'è qua dentro. Beh, qui dentro ho una piccola porzione del virus che purtroppo si sta diffondendo. Ok, e tu combatti questo virus. Perfetto. Allora, dietro la maschera invece chi c'è? Ricci, Fabio. Fabio, dove lavori? All'antico forno nocioli. Dove, di quale città? Di Roma. Ok, di Roma. Quali sono i rischi che tu incontri nel tuo lavoro? Beh, siccome lavoro col pubblico e tutto quanto, alla fine taglio pizza, taglio pane, scaldo pizza, quindi c'è sempre il rischio di taglio, di scottatura, comunque di contaminazione batterica e quant'altro. Se non si pulisce il coltello, se non ci puliamo le mani, diciamo che c'è molta, molta, molta contaminazione, se non c'è sicurezza. Quindi anche contaminazione batterica, un po' quello che tu stai facendo con il tuo personaggio. Ok, allora, ringraziamo Fabio. È tutto da Radio Almi Network. Ricordiamo che per qualsiasi necessità è possibile consultare il sito www.almi.it oppure chiamare al numero verde gratuito 800 180 943. E un saluto da Carmela Bata dell'Ufficio Comunicazione dell'Almi. Grazie.